Benvenuto in questo corso accelerato su come partecipare al dibattito Israele-Palestina per fare Cagnara. Se improvvisamente vedi tutti i tuoi amici scannarsi per questa cosa di Israele, ma tu abiti a Cervignano del Friuli e per te la Palestina è un formato di pasta per il brodo, segui questo semplice corso per capire come buttarti anche tu nella mischia e stare in compagnia. A me piace stare in compagnia. Prima di tutto eseguiamo un test per capire a quale schieramento sei più affine. Sei pronto? No. Rispondi alle seguenti domande. Mare o montagna? Mare. Sleep o boxer? Boxer. Sei più un tipo da cane o da gatto? Un gatto. Perfetto, i nostri potenti computer stanno elaborando il risultato ed eccolo qui! Wow, sono venuto fuori! Non ci interessa, non è importante. Ah, è questa la striscia di gazzosa? No, è l'immagine della bandiera. Ora che sai il paese più affine al tuo ascendente, puoi entrare nel gioco della Cagnara. Ma io non so cosa dire. Sono qui per questo, comincia prendendo i morti che ti fanno più dispiacere. Wow, c'è l'imbarazzo della scelta. Ti basterà rinfacciarli all'altro e il gioco è fatto. Ma attento, lui farà lo stesso. Avanti, prova! Eh, avete ucciso molti civili. E voi allora? Eh, 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 voi allora? Sì, ma voi allora? Ok, ma voi allora? Eh, sto partecipando al dibattito! Bravissimo, mi sembra di assistere a un vertice diplomatico. Sono impegnato in geopolitica. Ora hai tutti gli strumenti per approfondire i fatti. Che ti fanno comodo. E fare la figura di quello che la sa lunga. Stupido! Imbecille! Lega Araba, Esbollah, Hamas, stupido! Sheikh Jarrah, risoluzione ONU, Netanyahu, imbecille! Ma che bravi, ma starei ora ad ascoltarvi. Che bello, sono contento di poter mostrare a tutti anche questo lato della mia personalità. Alla fine le guerre lontane servono a questo. Scusate, queste divisioni sono sciocche. Non esiste una parte che ha ragione e una che ha torto. Hanno tutte ragione e torto allo stesso modo. Hai bisogno a parlare di pace. Ma, ma lui chi è che sembra così saggio? Lui è Sandrone e qui per assistere al corso di Cagnar avanzato. Quale corso? Il corso di... Come sembrare equilibrati col qualunquismo da quattro soldi! Adatto solo a chi non è coinvolto direttamente. Anch'io voglio partecipare. Questa è la striscia di gazzosa? Ma infatti, secondo me sì. E voi allora? E voi allora? Sì, ma voi allora? Sì, ma voi allora? Sì, ma scusa, voi allora? Però voi invece, scusa se mi permetto, però voi vogliamo parlare di quello che guarda senza parole. Sono senza parole.